con su umberto e la moglie ricordo no ricordo dello sposalizio 1898 no 1895 120 anni fa è carina ma cittadino federico non commentiamo qualche la bella che lui dicono stavo bene un anno fa l'ho fatto sia ma guarda che mortorio stanotte ho fatto un sogno si ma ero la c'è la bm che uscito dal negozio si sentito una vampata d'aria tutta gialla con acqua come se arrivava qua tutta l'acqua e ha spinto l'acqua l'aria calcola che si arriva se fa il botto di qua se che onda ti arriva si viene fuori e ma di testa questo devo far provare l'altro tu metti la cuffia tu metti la cuffia